il seguito è stato più deprimente il driver mi ha portato a casa sua e mi sono venuti attacchi di depressione a vedere in che condizioni vivevano lui la moglie e due figli una povertà che noi neppure immaginiamo ok this is for school this your it's your so la si